E' una cosa seria. Allora, il problema è questo. Avendo chiesto asilo politico al nostro Paese, la preoccupazione è che non è che magari nel Mediterraneo c'è qualche sommergibile russo che fa uscire questo signore e ce lo ritroviamo magari sulle coste di Lampedusa. A questo punto il Governo come si comporta? Lo prendiamo come profugo? Lo teniamo per l'asilo politico? Io vorrei sapere dal Ministro della Difesa innanzitutto se ci sono sommergibili russi vicino alle nostre coste e poi cosa fa il Governo nel momento in cui Snowden eventualmente ce lo ritroviamo a nuoto sulle coste di Lampedusa e chiede asilo politico. La ringrazio, onorevole Bonanno.